Ok, inizio un altro livello di rat Ok, tentiamo di fare un movimento da porta Ok, vediamo bene, sì Prima torre andata Ma io non vi sto alla punta a Ryan, mi ha fatto male Ok, vediamo bene Armi da fuoco, grazie Ouch Vai, potenziamento armi da fuoco Doppie vipere Ok Ok E vai sbloccato un nuovo mondo Vediamo se ho fatto tutto Se ho fatto tutto effettivamente Ok Cambia pianeta, facciamo quello nuovo Non faccio quello nuovo Non faccio quello nuovo Questo tizio uccide bambini Mi sembra abbastanza cattivo Che bello Ben tornati appassionati di Dreadzone Vi attende una show incredibile Nell'episodio di oggi infatti Il team Darkstar è stato inviato Nell'infernale pianeta di Sarathos La loro missione Distruggere una mostruosa creatura aliena Conosciuta come il Re Leppia Se credetemi Mostruosa è un complimento Ah, bello Pro Le modifiche alfa Possono essere usate solo un'arma alla volta Quindi dovrai passare la modifica da un'arma all'altra Seleziona un'arma Scorri fino a potenziamenti alfa E premi il tasto X Per entrare nel menu Modifiche alfa Il tuo primo obiettivo Stai attento L'esterno è strettamente sorvegliato A un cattivo presentimento Vai, sparatemi Super Saiyan Più che fortuna Perfetto Devo riuscire a procurarmi una di quelle tutte da combattimento Ouch Ouch Ma mi attaccano alle spalle Non vale With armi Ouch Come è usato Ouch Ouch Corri Corri No, perché Mi che fanno sp Variato Mostri! Ma cosa volete fare? Vabbè! Ok! Ouch! Come... Mi ha fatto il mazzo! Oh, c'è mancato poco! Un piccolo errore di momento è quegli alieni mangeranno la tua testa a pranzo! Mia madre era solita servire a colazione cervello di lombas con salsa e uova, molto buono! Che schifo! Ricordami di non mangiare mai a casa tua! Questo è il più divertente di un autobus pieno di ragazze bonbon! Cacchio! Eh, non potete passare! Ok! 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 omi con un po' e lasciarmi non lo so guardare ecco il culpaggio dov'era? non mi ricordo com'è che si fa il doppio attiva la mossa presto 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 spara 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 questo ragazzo ci farà vendere molti spazi pubblicitari qualità speriamo solo di non avere più problemi al guardanova perfetto andiamo a cena da questa parola e prima che inizia ad arrugginirmi e muoviamoci si la casa di levitano no la casa di levitano sbagliato ok cerchiamo di capire bene come si muove questo coso no 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 ho idea dove si ricarica Tranquillo ti copro No Ecco Ecco come potessi sparare il cannone Chi è che mi spara No Muori Eh non sono so Ok muori Dov'è che posso Ecco Oh ma non potete uccidermi Ok dov'è? No No Perfetto Bello Ci vado subito E siamo qua Dammi big money Buona Ed ecco lo scontro contro il boss Mancano pochi stanti all'epico contro con il temibile re Leviathan Il team Darkstar deve distruggere tutte le sfere per risvegliare questa gigantesca creatura Buona caccia Ah che bello Ok Adesso invochiamo Satana No No non potete uccidermi No non potete uccidermi Perché io Solo io posso vivere per sempre Oh non potete uccidermi solo io posso vivere per sempre Oh non potete uccidermi solo io posso vivere per sempre Aia Non è possibile sono morto Muori 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 Sparali Muori Mi prendo a chiamate Io che fortuna pensavo di prendermelo in faccia Muori Vita Oh scusa Bomba atomica Eh eh non puoi superare il mio scudo Ti ho ucciso maledetto E vai Vuoi cimentarti nuovamente In sfide già sperate No 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 faccio Questo No Ok Ok No Questo muovi Ti raccetta Fatto La febbre da parte Muori 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 Ma finisce un altro livello di Ratchet e Gladia Torra la prossima